buongiorno eccoci arrivati alla nostra consueta diretta quotidiana oggi è una diretta speciale perché sono veramente felice di essere qui con uno dei miei più vecchi amici goffredo buccini che anche autore del tempo di manipolite che è un libro tra un libro storico per un libro di memorie anche di considerazioni rivi da rivisitazioni che goffredo ha pubblicato perché come sapete il 17 febbraio saranno 30 anni dall'arresto di mario chiesa e goffredo insieme a me a altri ragazzi quello quelli che lui definisce dei ragazzi a quell'epoca si ritrovò a seguire l'inchiesta goffredo io ti farò qualche domanda poi facciamo un po di colloquio fai vedere la copertina perché dobbiamo fare una bieca campagna ecco un po di pubblicità innanzitutto volevo salutarti un abbraccio peter ti ringrazio dell'ospitalità senti goffredo hai cambiato dei punti rispetto a quell'inchiesta tu racconti eravamo tutti ragazzi eravamo tutti giovani volevi credo un anno più di me avevamo meno di 30 anni se non sbaglio e ci siamo trovati per caso ad assistere al crollo di un sistema il sistema dei partiti il sistema delle tangenti tu però tra a 30 anni di distanza pensi che magari in buona fede abbiamo commesso degli errori quali errori abbiamo commesso dunque intanto vorrei come dire vorrei premettere una cosa perché questo nostro paese amico mio è un paese in cui se tenti di analizzare degli errori diventi subito un pentito c'è la categoria c'è la categoria del pentitismo giornalistico io non sono un pentito sono uno che sta cercando dopo molti anni qui essendo parecchio stupido ci ho messo parecchio tempo di ragionare su quello che abbiamo fatto allora su come l'abbiamo fatto e sui risultati anche successivi che non sono particolarmente brillanti peter né per questo paese secondo me neanche per il giornalismo e direi neanche per la magistratura quindi se dopo 30 anni il risultato è questo forse valeva la pena di ragionarci un po' e quali errori secondo me per quello che ci riguarda o almeno per quello che mi riguarda io lo riassumo in una cosa dunque berlusconi non aveva tutti i torti o aveva ragione quando sosteneva che i giornalisti di allora erano tutti comunisti lui naturalmente lavorava al giornale di montanelli per lavorare al giornale un po comunista anche tu di formazione cioè tutti quanti eravamo nati a parte qualche eccezione dentro alla sinistra giovanile universitaria liceale eccetera perché dico questo perché questo faceva sì che noi avessimo in testa delle verità delle verità preconcette e quali sono le verità preconcette che i socialisti fossero i traditori del soldo dell'avvenire che craxi fosse effettivamente un manigoldo e basta che certi imprenditori fossero la caricatura della piovra no allora quando tu queste cose già le pensi e poi incontri un'inchiesta che te le dice tu dici a lei è fatta ho trovato la verità non c'è bisogno di guardare nessun'altra possibile o almeno di guardare la verità da altri punti di vista quindi tendi tendo a creare un santino dei santini degli investigatori degli inquirenti e questo accidenti se l'abbiamo fatto tendi a non vedere i possibili lati umani per esempio della vicenda e dei personaggi tendi a dimenticare un po e io questo sicuramente l'ho fatto la dimensione diciamo della dignità umana di quelli di cui stai scrivendo e quindi tendi a fare un grande rullo compressore che appiattisce la narrazione secondo me questo è stato un errore che mi attribuisco e che ha tolto ai miei lettori almeno in questo caso parlo proprio di me non so se tu ti senti di accompagnarmi in questa analisi una parte delle angolazioni possibili e questo non è stato un buon servizio secondo me non è tutta colpa nostra eh perché siccome ci hanno messo la degli adulti dei colleghi più grandi che avevano invece parecchia mala coscienza dalla loro noi ci siamo ritrovati un po a raccontare questa cosa enorme che ci è piovuta addosso insomma ecco guarda io l'ho vissuta in maniera diversa nel senso che io figurati il partito socialista l'avevo anche votato credo nello dopo aver votato nell'ottantadue radicale probabilmente nell'ottantasei non mi ricordo in quale elezioni ho votato anche partito socialista perché vedevano il partito socialista io sì che ero vagamente di sinistra ma ero un libertario come sai radicale legalizzazione delle droghe eccetera a me personalmente a me è successo un'altra cosa a un certo punto è un episodio minimo che mi ha assegnato nella mia convinzione sui socialisti all'inizio quando ero al giornale tu lavoravi alle cronache del giornale io come ti ricorderai lavoravamo tutti e due al giornale di Montanelli io seguivo la scuola a un certo punto seguendo la scuola mi capita che conosco un assessore provinciale all'educazione che si chiamava Angelo Rossi il quale mi sembrava un assessore provinciale ultradinamico era un socialista era un frate figurati che aveva gettato la tonaca alle ortiche perché si era sposato lui raccontava di essere stato il precettore di Bobo e Stefania io non so se fosse così questo socialista mi sembrava estremamente dinamico io ero un ragazzino avevo 23 e 24 anni mi invitava a pranzo eccetera molto interessato un bel giorno succede una cosa che è la cosa che personalmente mi ha segnato mi guarda e mi dice Peter ma tu quanto guadagni come ti ricorderai il giornale pagavano pochissimo certo certo io allora credo che guadagnavo era un bello stipendio per ventitré o ventiquattro anni però rispetto a quello che prende tu sei andato al corriere si guadagnava poi si guadagnava molto di più poi andavo tipo un milione centottantamila lire e abitavo ancora in periferia da mia nonna dove tu veniva a vedere l'inter ti ricordi estrema estrema periferia mi guardo allora Angelo Rossi che a me piaceva molto io gli dico un angelo guadagno un milione cento lui mi guarda e mi dice Peter ma è uno scandalo un ragazzo brillante come te certo eh senti facciamo una cosa mh io ho disponibilità a in giù di far passare in giunta a spese fino a nove milioni di lire senza senza farle passare giunta ecco e allora tu mi scrivi una progettino su un convegno su scuola in mass media e io ti do nove milioni eh poi continuiamo a parlare e mi dice ma dove abiti beh io abito a mi guarda in fondo cioè Peter ma è uno scandalo un ragazzo non pensare così lontano se mi lasci dati eh ma adesso io vedo se ti trovo una casa del tuo canone o dal l'ipab o da un'assicurazione io ero piuttosto ingenuo lui mi sembrava una brava persona non aveva ancora capito dove andava a parare e gli lascio i dati e gli dico va bene torno in redazione quella sera stesso la sera dopo Angelo mi telefona e mi dice Peter puoi controllare se domani uscite con una determinata notizia e già mi sembra io vado a vedere nel medavo e la notizia non c'è e dico Angelo non c'è già la cosa incominciava a puzzarmi. Sperti un pochino eh. Sono due giorni e lui mi chiede senti puoi telefonare al mio ossessore all'economato per chiedergli quanto ha speso di riscaldamento per quella scuola. E gli faccio ma perché? Eh no vedrai parlagli tu vedrai. Io chiamo questo signore e trovo dall'altra parte un uomo terrorizzato. A quel punto mangio la foglia e a telefono ad Angelo e dico Angelo lasciamo perdere per tutto il resto. Scoppio a mani pulite molti anni dopo sia Angelo che l'assessore all'economato vengono arrestati e credo confessino proprio per le forniture di riscaldamento sulla scuola di cui lui mi telefonava. Ecco. A me questo episodio più che tutti i pensieri socialisti. Io perché io mi ricordo che Angelo gli dicevo perché lui Angelo mi diceva che guadagnavo un milione al mese. Io dicevo Angelo ma come fai a vivere? Ah ma sai viene a casa quello che ti mette a posto la maniglia eccetera. Ecco personalmente io ripensando la mia vita al rispetto al rapporto con il partito socialista questo è stato l'episodio che mi ha segnato di più. Io confio come te considero il fatto che non è vero che secondo me Craxi è stato un nuovo politico è stato anche costaltista. Certo. Secondo me come scriveva Montanelli Craxi quando apriva le finestre e guardava l'Europa mentre quell'altro Demita apriva le finestre e scriveva Montanelli e lui vedeva Musco però la dimensione criminale presa da tutto il partito socialista che non rubava solo per il partito perché tu lo sai di molti arricchimenti individuali non c'è dubbio. È una responsabilità dal punto di vista etico morale enorme che finisce per cancellare tutti gli altri meriti. Io penso che la responsabilità più grave che do a Craxi da un lato e a Di Pietro dall'altro è quello di un lascito cattivo al paese e questo è nelle conclusioni del libro. Cioè mi spiego meglio quando tu sei stato e vedo che ne convieni uno statista comunque sei presidente del Consiglio dell'Italia per quattro anni e hai due condanne definitive che vuol dire come sappiamo sei collegi di giudici diversi quindi è difficile sostenere che sia un complotto di un gruppo di PM di Milano insomma e te ne stai all'estero cioè resti all'estero non torni stai dicendo agli italiani che non c'è di che fidarsi dell'Italia quindi stai consegnando il primo messaggio molto cattivo agli italiani sul paese. Il secondo messaggio secondo me lo consegna Antonio Di Pietro andando via come è andato via dalla magistratura cioè se tu esci in modo così insomma in modo così difficile da capire insomma ecco. Io ho capito però le sentenze hanno detto che non è andata. Le sentenze hanno hanno detto altro. No no attenzione. Non è andata come io penso di averla capita. No 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 attenzione io non sto parlando penalmente di questa cosa perché anzi è il caso di ricordarlo per evitare che Antonio faccia querella a me e te al fatto a tutti i Antonio di Pietro è uscito sempre pulito da tutte le vicende, moltissime vicende giudiziarie alcune molto pretestuose che i suoi imputati gli hanno mosso contro. No no io sto parlando di un'immagine politica cioè innanzitutto tu esci e diciamolo in modo incomprensibile perché tu ricevi a pochi giorni prima dell'interrogatorio di Berlusconi su cui tutto il pul sta puntando su di te una telefonata del ministro della difesa e quindi evidentemente come dire in possesso di fonti anche molto riservate che ti dice stai attento eh io ti voglio bene però c'è un'ispezione riservata su di te. Nelle more di questo Berlusconi comincia a rinviare l'appuntamento con i magistrati di Mani Pulite guarda caso finché tu non ti rimetti allora Berlusconi si fa interrogare dagli altri depotenziati appena depotenziati politicamente dalla tua uscita. Tutto questo peraltro è finito in un processo come se pensavi quello di Brescia in cui è finito con una soluzione è finito con una soluzione di Previti perché è ovvio che se la persona ricattata dice che non c'è ricatto non è vero che è un ricatto quello viene assolto ma tu devi dire che non è vero che è un ricatto perché sennò dovresti dire che c'è qualcosa per cui tu eri ricattabile ma al netto di questo ragionamento c'è un dato politico cioè se tu dopo eh dunque lui è uscito a dicembre del novantaquattro diciamo dopo neanche due anni diventi ministro e quindi sei un civil servant certo capisco però ministro di un presidente del consiglio che tu hai scorticato vivo come testimone quando era un gran boiardo di stato e dopo un altro anno tu ti fai eh eleggere nel collegio del Mugello con i voti cioè con il sostegno da indipendente ma con il sostegno determinante di un partito di quelli su cui hai indagato e anzi non un partito io su questo controllo concordo al cento per cento e stai dando agli italiani Peter un messaggio terribile cioè che tutto questo è stato un bluff che quindi non c'è da fidarsi nemmeno della magistratura e allora questi poveri italiani che non si possono fidare degli statisti e nemmeno dei magistrati li stiamo consegnando a un territorio di cinismo che è quello che stiamo vivendo oggi tanti anni dopo io credo che su questa analisi su questa tua analisi io concordo al mille per mille e questo è appunto perché come te amo scavare nell'animo delle persone io credo che la chiave stia tutto in quel processo finito con una soluzione per cui in quell'ipotesi negata dai giudici c'è l'ipotesi del ricatto avevamo un uomo io l'interpretazione che ho dato di di pietro e che davo continuo a dare un grande poliziotto un grande poliziotto che come spesso fanno noi due abbiamo fatto i cronisti di nera e lo sappiamo spesso i grandi poliziotti non sono diciamo gli uomini più specchiati del mondo proprio perché sono dei grandi poliziotti e che se vai per le valuti ti sporchi i valuti esatto che comunque quello che eventualmente poteva aver fatto lo riscatta in qualche modo con quello che fa dopo perché fondo un senso di giustizia ce l'aveva anche lui e la e però rimane vittima di tutto questo e tutto quello che è accaduto secondo me è la storia di un uomo che cerca di difendersi sì ma che cerca di difendere secondo me però il quello che lui pensa sia ancora un patrimonio politico perché altrimenti e perché tant'è che poi va in politica e però io credo che lui avesse se giusta la nostra ipotesi poi antonio ci querellerà a dire no perché avesse come molti altri quando viene eletto al musello l'immunità parlamentare immunità perché come ti ricorderai poi lui diventa ministro subisce quello sì quell'inchiesta singolare da parte del gico della guardia di finale assolutamente c'è un'inchiesta che insomma noi abbiamo fatto i comunisti giudiziari la guardavamo non sembrava non avere nel capo di coda come ma parliamoci chiaro c'era molta voglia di fargliela pagare in tanti partiti dell'italia non è che sono sceco lo capisco bene questo è indiscutibile però io sono concordo con l'analisi che tu fai con l'analisi rispetto a quella che tu fai io invece però invece come giornalista non mi sento particolarmente in colpa perché tu forse avevi la fortuna di lavorare al corriere e può darsi che la questione fosse diversa al corriere ma la verità è che nel 90 per cento dei giornali di Milano di queste cose era difficilissimo scrivere tu ti ricorderai non credo che tu l'abbia ricostruito che quella famosa intercettazione che viene prima di Mani Pulite sulla Duomo Connection in cui la raccontiamo per chi ci segue si spieghiamo pure viene messo sotto inchiesta da parte di Dito Boccassini e Sergio De Caprio il famoso capitano ultimo per un amico mio di Goffredo viene messo sotto inchiesta il figlio di un importante mafioso che sta a Milano tale Carollo questo Carollo per la prima volta quasi vengono messe le microspie e lui all'interno del suo cantiere dice due cose ho dato 200 milioni a un assessore che poi verrà si chiamava Schemmari che poi verrà prosciolto rispetto alla corruzione e e dice anche di avere un contatto con il sindaco di allora il sindaco eh di allora che era Paolo Pilliteri il cognato di Craxi molto poco amato da di dai milinesi a differenza di Tognoli perché dal punto di vista penale probabilmente facevano le stesse cose ma Tognoli la città la cambiava e a Pilliteri l'aveva invece lasciata inchiodata ed è quindi il mafioso dice avere un contatto con lui questa intercettazione che recupero io a un certo punto ricordo di averla distribuita in sala stampa perché io quell'intercettazione non riuscivo a farlo uscire sul mio giornale e quindi eh in quel momento nasce un pochino la eh diciamo il pull in embrione eh dei giornalisti che nasce quasi come autodifesa per poter tornare al proprio giornale e dire questa notizia ce l'ha anche il Corriere ce l'ha anche perché voi al Corriere fino al fondo famoso di Giulio Anselmi e questa io l'ho vissuta così almeno però no non vorrei che tu avessi frainteso questa cosa sui giornali io nel libro non critico il pull dei giornalisti anzi lo spiego più o meno come lo stai spiegando tu e anche in un altro modo perché era il questo pull che nasce nasce con l'inchiesta a mani pulite dopo mh tre mesi tipo e poi non dura tanto il pull dei giornali no dura un anno ma lo spiego una legge economica cioè eh sì ci si batte se un bene è scarso per quel bene cioè se c'è una sola notizia è logico che che competiamo per quella notizia ma se tu hai dieci arresti e venti avvisi garanzia al giorno è da imbecilli battersi per prenderne uno piuttosto che un altro quando il rischio è soltanto uno che in mezzo a quelle trenta cose ci sia la polpetta avvelenata che come tu ben sai era più che mai possibile perché gli avvelenati di pozzi c'erano già intorno a noi no no io la crisi guardi faccio un esempio che mi riguarda e riguarda persino il il nostro amico Michele Brambilla che era forse l'unico ottimo direttore del quotidiano nazionale ottimo collega uno dei pochi non una persona strepitosa e uno dei pochi non comunisti di formazione quindi diciamo anche estraneo arroggiamento che ho fatto prima io ho ritrovato una una chiacchierata che facciamo io e Michele con Italo Ghitti eh dopo diciamo nei primi mesi Italo Ghitti era il GIP il giudice per le intagini preliminari che decideva su tutti gli arresti perché era il titolare di tutto il fascicolo era una sorta di gippone potremmo dire e e questo in questa chiacchierata Ghitti cioè il GIP cioè quello che doveva decidere delle indagini dei PM ci spiega come loro loro volessero riformare e raddrizzare il sistema questo senza che né io né Michele ma neanche i nostri capi che hanno letto il pezzo alzassimo eh le antenne dicendo ma cosa sta dicendo questo perché voglio dire vorrei ricordare sicuramente i nostri eh spettatori ascoltatori e amici del fatto sanno perfettamente la differenza tra un PM e un GIP non sono proprio la stessa cosa certo sono assolutamente due cose diverse e per come la vedo io oggi non dovrebbero nemmeno stare assieme nella formazione professionale solo di dire una cosa controversa eccetera perché perché il GIP è un giudice che deve garantirmi dalle indagini del pubblico cioè dalla sulla bontà delle indagini del pubblico ministero io ti seguo però fino a un certo punto eh perché eh adesso hai molto ragione però quel periodo era un periodo eh straordinario sarebbe stato bene che queste regole fossero applicate però come io mi ricordo dal piccolo nel mio piccolo e quello appunto era il periodo in cui Ugo Finetti si presenta con Paolo Berlusconi in redazione va da Montanelli e chiede il mio licenziamento e Montanelli è lì e Montanelli lo racconterà in un libro Orlando accompagna Paolo fino alle scale e gli dice la prossima volta te le te le faccio fare a calcio in culo e lì inizia gran parte della rottura che poi porterà la defenetrazione di Montanelli ehm il potere era veramente molto pervasivo eh una delle storie più belle che io racconto su Mani Pulite riguarda un collega che adesso è molto famoso Gianluigi Nuzzi eh già il giovane Gianluigi Nuzzi allora non aveva un giornale era un freelance e si occupava di cose immobiliari un bel giorno lui eh scopre l'elenco degli inquilini ad ecocanone credo dell'IPAB l'IPAB era un ente pubblico che aveva queste case bellissime eh che dava ecocanone a pochissime lire e quindi erano ricercatissime eh lui recupera questo elenco che in quel momento era una notizia no? Perché le case venivano assegnate generalmente attraverso il potere politico che gli dava gli amici avendo in cambio mh dei favori oppure un buon occhio diciamo e c'erano anche ovviamente molti giornalisti incomincia a telefonare in giro per le redazioni telefono al corriere non gli risponde nessuno telefono un altro giornale in che arriva un altro giornale di cui non faccio il nome per caricati patria persone che noi conosciamo molto bene ma a un certo punto parla con il capocronista il quale gli dice Gigi bene bene ma tu l'elenco l'hai letto? E lui dice no guarda non l'ho letto guarda che c'è dentro il mio nome e quello del mio vice. Certo. Tu ti ricorderai che quando noi eh troviamo quell'intercettazione su Schemmari e Pilliteri i colleghi di Repubblica scrissero un pezzo che passerà alla storia del giornalismo in cui dicevano che c'era un'intercettazione che riguardava Pilliteri che c'era poi si parlava di un assessore a cui erano stati promessi duecento milioni e alle ferma e alla alla fine del pezzo si scrive si leggeva che il Schemmari che non era citato nel resto insieme a Pilliteri avevano presentato una denuncia per Calunia. Ma perché no non solo me lo ricordo ma l'ho citato nel capitolo della tua connessione che tu ecco forse allora scoprimmo che il capo del redattore di quel giornale tutte le mattine si sentiva con Schemmari quando si uscirono le intercettazioni per stabilire la linea politica sull'inchiesta. Ecco io a differenza tua nel libro non citavo la testata tu invece la eh citi esplicitamente ma è assolutamente vero me lo ricordo perché è stato un episodio eh buffo anche se in questo caso non ci vedrei un elemento diciamo di corruzione del collega piuttosto no non dei due colleghi assolutamente due colleghi ma nemmeno del terzo cioè ci vedo un elemento di rapporto personale perché ti ricordo che Schemmari e qui torniamo al pregiudizio di sinistra era considerato un compagno Schemmari cioè era uno molto di molto ben voluto nella sinistra milanese e quindi era molto doloroso che Schemmari fosse abbattuto e eh Peter guarda che la questione politica è vero per quanto essere dolorosi se tu sei il capo del cronista e tutte le mattine ti senti al telefono eh da insultando anche colleghi peraltro eh perché io me la ricordo quando mi diero del cretino in quelle telefonate eh con il principale indagato di un'inchiesta in cui c'entra anche la mafia tu puoi essere di sinistra di destra ma giornalisticamente sei sei non so come definirti e però il clima è che dopodiché eri amico di questi qua e altri arrivavano agli appartamenti cioè l'errore forse è che l'inchiesta non è che riguardava anzi l'errore secondo me io non so se questa parte ci sia nel tuo libro perché non ho ancora letto tutto io ho trovato straordinario e bellissimi i primi sei capitoli immagino che gli altri siano belli altrettanto e quindi consiglio a tutti di comprarlo secondo me invece l'errore che abbiamo fatto è che non abbiamo capito che tra virgolette i veri cattivi non erano i politici erano gli imprenditori e perché non l'abbiamo capito sì perché noi eravamo giovani ma perché ai nostri editori faceva comodo che non si capisse è certo vero che alla fine la classe politica nella in parte è scomparsa ma gli imprenditori sono rimasti tutti al loro posto noi tendevamo a pensare che gli imprenditori in fondo fossero dei concursi e invece gli imprenditori erano i veri dominus della vicenda tutta la storia si regge sulla diciamo sul il il patto tra imprenditoria e politica in cui l'imprenditoria non è vittima l'imprenditoria altera i meccanismi della concorrenza l'imprenditoria fa cartello e altera i meccanismi della concorrenza mettendosi d'accordo con la politica però quella politica è la politica che ha devastato l'italia perché negli anni ottanta quella politica lì scambia consenso contro debito pubblico però e quelli sono gli anni non a caso gli anni in cui nascono i prodromi di tangentopoli sono gli anni in cui il debito pubblico schizza per aria perché perché la politica gestisce compra il consenso e compra il proprio la il sostentamento proprio dando appalti truccati sostanzialmente agli imprenditori che per la stragrande maggioranza assolutamente d'accordo infatti io questo non lo scrivo e non lo penso sono non sono vittime sono assolutamente complici è vero che la storia i politici sono scomparsi di scena gli imprenditori non le imprese che mio dio devono sopravvivere no no proprio giusto ma i singoli imprenditori sono rimasti sulla cena e la cosa straordinaria è che negli anni successivi li abbiamo visti ripetere alcuni di loro esattamente i comportamenti che facevano prima cioè perché abbiamo trovato gli stessi imprenditori che trova che davano mazzette a politici di diverso colore eccetera eccetera gli stessi gli stessi sensali gli stessi mediatori cioè vent'anni dopo ci fu adesso non mi ricordo chi è quando è successo precisamente ma di vent'anni dopo cioè dieci anni fa ci fu un ritorno a un certo punto di due o tre mediatori dei tempi di mani puliti una cosa quasi commovente carlo frigerio no già stefano frigerio del che avevano candidato in parlamento chiamandolo carlo per in modo di non fare scoprire e soprattutto primode greganti comuni rimarrò rimase in carcere per massimo la custodia cotolare senza dire una parola e di fatto col suo silenzio salvò i vertici del partito comunista perché se gra se segreganti avesse parlato avrebbe detto chi gli aveva detto di prendere le taggenti sostanzialmente cosa anche perché c'erano proprio c'era erano 600 credo 625 milioni porto via gabbietta 625 adc 625 al psi e 625 aggreganti e uno di quindi greganti sarà il pcb 10 no perché ha comprato un appartamento inviatissimo è ovvio no quindi voglio dire allora allora peter quello che però ti voglio anche dire sulla sulla stessa sulla stessa magistratore sono due cose che non mi comincio uno e questo ne ho parlato con pier camillo davigo in una delle presentazioni di libro ed è stato oggetto di controversia tra noi mi fa un po sorridere il fatto che ancora oggi dice perché meglio che di colpo loro si sono hanno scoperto la corruzione ora la corruzione come tu sai come io so come sa greco che se n'è occupato con la i come come sanno quelli che si sono occupati di antonio natali la corruzione era strano nota strastra stranota era tu pensavi che fosse così diffusa io no io pensavo che c'erano i ladri ma non pensavo che ci fosse un sistema talmente capillare eh che andava a riguardare tutti tutti i partiti ogni tipo di appaltino eccetera mi potevo anche illudere da vecchio cuore di sinistra che il pds non fosse non fosse corrotto se non nei miglioristi che mi parevano un po vicini nella mia follia di allora ai socialisti quindi poterlo era non è una follia di allora no no più vicini degli altri lo so benissimo ma scaricare tutto sui miglioristi è un'igenzia evidentemente oh ecco ma eh eh peter era oggetto di barzellette cioè le barzellette per cui grillo viene ostracizzato dalla rai so barzellette della di dieci anni prima era noto a tutti e i magistrati lo sapevano non solo ma non facevi carriera adesso eh nella magistratura certamente non facevi che eri contro il partito socialista a Milano no non potete fare il procuratore generale il padre della mia ex vice direttrice Chiara Beria d'Argentin straordinaria Bertorno ma anche il procuratore fu scelto all'epoca con il vero la prima cosa la prima cosa che ci dobbiamo togliere è che i magistrati abbiano scoperto no i magistrati stavano sotto lo schiaffo della politica prima quando la politica è costretta a ritirarsi per effetto di ehm di situazioni esterne cioè il muro di Berlino la lega e la gente che vota liberamente senza durarsi il naso come diceva Montanelli prima i magistrati di colpo viene una tana libera tutti straordinaria e per di più si tolgono il sassolino del nuovo codice in tre parole il nuovo codice voluto da Vassalli e da società in ottanta nove trasforma il processo da inquisitori in accusatore quindi ne fa un processo di parti in cui il pubblico ministero è allo stesso livello della difesa questa cosa avrebbe avuto come esito assolutamente inevitabile che le carriere si separassero proprio era se non ci fosse stato tangentopoli io sono convinto che nel mondo la superazione delle carriere nel 92 nel 95 i magistrati cominciano a picchiare anche per questo per una ragione diciamo tra virgolette corporativa in più ultimo spunto che ti butto lì ma perché non usare gli arresti domiciliari perché volevi 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 usare la galera come Grimaldello e e questo loro non lo ammettono ma questo è del tutto evidente che la galera è stata usata come strumento di pressione è anche molto pesante non perché le stesse esigenze cautelari cioè pericolo di fuga reiterazione del reato inquinamento della prova tu le potevi risolvere con in molti casi non in tutti con gli arresti domiciliari inquinamento delle prove no i metti perché a casa a casa siamo i cronisti allora noi siamo andati anche a casa ti ricordi di una persona agli arresti domiciliari che era sergio domerico coraglia coraglia e ci per la duomo connesso ti ricevevano i carabinieri venivano una volta al giorno lasciare qualcuno a casa voleva dire lasciarlo libero di parlare con chiunque però anche in carcere poteva parlare con l'avvocato e con la moglie quindi non lo so insomma ho l'impressione che o almeno che la garcia che la custodia cautelare sia stata usata come una spranga ma io assolutamente sì ma secondo me non è stato troppo poco io rimango convinto a questa cosa ma non perché sia giustizialista anzi io sono per l'abolizione del calere cioè il punto è che come sempre in italia noi abbiamo una fase delle indagini preliminari straordinaria e dopo di che quando si va alle sentenze nessuno va in carcere è qualcosa cioè noi ci ricordiamo il povero Sergio Cusani che è stato in carcere e poi praticamente un altro paio su cinquemila condannati che è qualcosa che è fuori dal mondo non esiste una un sistema giudiziario che ti manda in carcere prima e poi quando ti condannano ti dice grazie arrivederci e questo è stata una delle robe surreali che sono accadute che accadono tuttora adesso insomma in italia se tu vieni condannato a meno di quattro anni di carcere è impossibile stare in prigione condannati a tre mesi e falli ma non perché sia un fan della prigione ma perché se no è tutto e nasce la sfiducia nella giustizia da parte perché tutti gli altri perché l'unica pena è lo sputtanamento questo è e tu vieni sputtanato cioè la vera pena una volta adesso più perché perché non c'è più la vergogna però c'è gente qui ancora oggi dà fastidio essere sputtanata certo che dà fastidio a me darebbe fastidio a te darebbe fastidio perché tu sei una persona onesta insomma no no guarda io dico sempre non mi hanno mai messo alla prova quindi io non lo so se sono onesto a me hanno messo la prova non ho fatto posti soldi e roba del genere forse a me nessuno si è avvicinato quindi io forse sono un fedente che non è stato messo alla prova forse non abbastanza quello che mi hanno offerto però c'è a me è successo io posso essere un peccatore lo sono un grande peccatore extra giuridiche su cui non ci vediamo ma dico a me darebbe fastidio penso anche a te le persone per bene sì lo sputtanamento e esiste ancora ed è una cosa grave peter per esempio davvero rispetto anzi lo sai che c'è rispetto ai tempi nostri in più c'è l'uso dell'intercettazione perché ai tempi nostri soprattutto l'inchiesta di mani pulite è stata fatta tutta senza intercettazioni è stata fatta con gli arresti ma non con le intercettazioni dopodiché le intercettazioni sono diventate davvero la eh la la pena alternativa cioè io ti prendo un lacerto di una tua conversazione te la sbatto in prima pagina tu sei rovinato per quattro cinque anni finché l'agenza non si scorrete esci dei sei costretto pensa pensate alla guidi io penso sempre alla ministra guidi tu ti ricordi non sei non ti ricordi manco più che era quella che si dovette dimettere senza aver fatto nulla per un'intercettazione sulla c'è una cosa politicamente gravissima eh ma finalmente ma grazie cioè lei aveva un compagno e se la faceva con i lobbisti e glieli portava e quando lei disse mi tratti come una squadra del guatemala lei protestava perché aveva il compagno che la trattava così lei era il ministro era il ministro era il ministro dell'industria cioè non poteva permettersi di fare una cosa del genere anche se non era un reato eh guarda l'uso delle intercettazioni che è stato è stato fatto in questo paese grida vendetta e bisognerebbe trovare un modo per scinderle dall'informazione reale in tempo reale perché non questo lo dico eh lo dico da giornalista io ti invito e questo faremo un'altra un'altra volta ha da vedere in negli ultimi vent'anni quanti sono i casi di intercettazioni avrei delle sorprese in intercettazioni sono molto meno di quanto non servono e riguardano esclusivamente o quasi esclusivamente eh le intercettazioni del tabaccaio non finiscono sui giornali e ci mancherebbe e ci mancherebbe pure che finissero sui giornali molto raramente però puoi rimanere no però puoi rimanere impigliato come dire dentro al fuoco per sbaglio cioè tu puoi essere no questo si è capitato noi voglio dire puoi essere un quisque de popolo che si ritrova sparato sui giornali perché stavi 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 passando tra le trincee e questa è la prima barbarie la seconda barbarie ti ripeto è che secondo me anche gli indagati che ci anche i non indagati ma i politici verso i quali sentiamo più eh un senso di rimprovero diciamo eh devono avere una sfera umana e privata dentro la quale noi giornalisti dovremmo non entrare io perché altrimenti noi verrà Peter mettiamo la pena dello sputtanamento che è l'unica pena vera come tu hai detto e hai ragione siccome di fatto poi nessuno finisce dentro a sentenza quasi nessuno e che cosa facciamo li roviniamo ne roviniamo la reputazione allora io dividerei però io dividerei però questi due aspetti allora sulla sfera privata io ti seguo e infatti io come direttore come sto bene attento che quando esce qualche intercettazione può essere scappato può essere successo però la regola è assolutamente questa anche perché ci sono le nonne molti si dimenticano che quando uscirono le famose intercettazioni dei furbetti del quartierino in cui c'era dentro di tutto e peraltro i giornalisti non scrissero su nessun giornale delle amanti eccetera ma venne scritto solo di un sms secondo me totalmente innocuo tra Anna Falchi e il suo marito che era uno dei furbetti del quartierino come si chiamava Ricucci in cui lei diceva ti amo tanto amore mio e venne considerato tra due che erano sposati voglio dire la notizia era ti odio ti faccio le corna ma Ricucci peraltro scusami è l'inventore delle espressioni i furbetti del quartierino ogni volta il copyright no quella non credo che sia sua tu sei sicuro l'accidente allora questo Ricucci lo abbiamo sottovalutato un genio della comunicazione per dirti questo i colleghi credo di Repubblica mi pare che lo pubblicarono furono poi pagarono 20 mila euro credo dal garante della privacy e da quel giorno in poi si è visto veramente poco di questioni private sui giornali ma a meno che tu non dica che della questione Morisi ecco io sulla questione Morisi lì io credo molti giornali abbiano sbagliato perché sulla questione Morisi una volta assodato che si era visto con due escort che c'era della droga francamente i particolari di che cazzo avevano fatto quella sera secondo me era molto bene non scriverli e io e i miei colleghi ho detto di non scriverli gli errori sono sempre possibili ma io continuo a pensarla come Alexis di Tocqueville per quanto i danni possa fare la libertà di stampa e ne fa sono infinitamente superiori i benefici che porta la collettività figurati io posso essere contro la libertà di stampa io sostengo che noi ci dobbiamo autoregolare ecco questo sì non desidero affatto i bavagli a me a te ai nostri giornali ci mancherebbe altro io penso che noi dobbiamo trovare la maturità per autoregolare delle delle scelte delle scelte sensate quanto alla storia di Morisi era l'unico caso in cui Haida era migliore di Jekyll e sarebbe stato un pezzo letterario nel senso che la colpa di Morisi è tutta politica per il veleno che ha spartito voglio dire Morisi a casa su fa quello che ha a casa su fa assolutamente quello che mi fa tenendo anche conto che usare droghe in questo paese non è un reato mi intenerisce è un reato fare a guidare drogati o roba del genere può essere può essere può essere dicevole che in qualche modo intenerisce un personaggio che così diverso dalla sua immagine pubblica si rifugia dentro un'immagine pubblica che è il contrario di sé che quindi sta dentro a un partito omofobo xenofobo muscolare con un'immagine macista e lui è tutt'altro quindi per questo secondo me andava fatto io l'avrei fatto volentieri un grande pezzo in difesa di Haida con no io ti dirò anche io per Morisi sono tuttora preoccupato perché io credo non preoccupato anche io la penso politicamente come la pensi sulla sua attività ma io penso a lui uomo rimasto solo certo io sono stato preoccupato per lui cioè nel senso che potesse fare un gesto insano eccetera sentito questa conversazione dei belli amici io vi dico tutti comprate il tempo di manipulite vi rifletterete vi lasciamo adesso poi io goffredo la continueremo a cena una delle prossimi giorni comprate il libro che è veramente bello peter ti ringrazio ti abbraccio e grazie ciao ciao